Tornerà agli antichi splendori il santuario di Santa Maria Valverde, santuario che domina la Valpolicella dall'alto dei suoi 600 metri, costruito nel 1682 come testimoniato dall'iscrizione posta sopra il barocco Altar Maggiore in località San Rocco, nel comune di Marano, nella Lessinia occidentale veronese. Un intervento atteso che arriva grazie all'impegno fattivo del GAL Baldo Lessinia. Certo, noi abbiamo fatto un progetto che abbiamo presentato la Regione Veneto, poi sono fondi naturalmente che arrivano dall'Europa, ma sono fondi che vanno proprio per rivalorizzare il nostro patrimonio, soprattutto il nostro patrimonio montano. Quindi così poter fare questo intervento proprio in una chiesa storica, in un santuario storico, credo che sia un intervento importante soprattutto per la gente, per chi abita, ma anche dal punto di vista turistico. La chiesa di Santa Maria Valverde, che dall'alto di un colle domina l'abitato di Pezza e Purano, ha un'origine molto antica, risale probabilmente al secolo XII ed è sorta sulle rovine di un antico tempio dedicato alla Dea Minerva. All'interno della chiesa è venerata la miracolosa statua a linea della Madonna risalente al 1516. La festa più solenne che si celebra è la festa di San Marco, preceduta da un tridue e conclusa con la solenne processione attorno al monte Castellon, per invocare protezione sui raccolti della terra. Santa Maria Valverde è un santuario che è nel cuore della gente. E allora, qualche anno fa, mi ricordo che l'allora parroco, Don Luigi, aveva lanciato una campagna che si chiamava un coppo per Santa Maria. Siccome bisognava rifare il tetto, ogni cittadino era invitato a contribuire per un coppo. E sono venuti fuori 16.000 euro da versamenti volontari dei cittadini e della parrocchia di Marano. Il sito di una bellezza incantevole evoca suggestioni poetiche. All'ombra del quadrato campanile, costruito in conci di pietra, c'è un piccolo campo santo in cui riposano i morti di Pezza, San Rocco e Purano, che per secoli qui vi vennero trasportati a spalle per arti sentieri. Diciamo che in luoghi come questo, in cui l'uomo tocca, per così dire, dalla terra con un dito il cielo. Beh, direi di sì. Quando si era, che sia di notte con il cielo stellato e si guarda in alto, che sia di giorno, una bella giornata di sole, magari ventilato come in questi giorni, ecco, necessariamente l'animo si rivolge verso l'alto, verso Dio. Per il credente è l'occasione di un momento di riflessione e di preghiera per il non credente, comunque un momento di intimità e di interiorità molto forte.